E' un po' di nuovo, una legge, un po' di nuovo, un tiro, ancora per Minalli, ve lo dipende dal serva testa, mentre questo domani è in mezzo a Pellini, Crogli ancora e poi Pogames, fortissimamente a Giales, dopo tre minuti, l'aiono già in montaggio con il decimo talento al pronato della Pash. Ora così da l'nova, più scatto, più scatto... Raffoli, raffoli e non passano dal presenza, e vediamo in condannare che non panna rovende... ma finita l'indulare... чуть al quadrino, quando qui dicersimo il conto che è givelli con il vall. Aiziona da dire, i primi momenti... E' un ottimo... E' un'ottimo di partire... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.